Ben ritornati amici con Franchi Romano su The Banner Saga, riprendiamo da dove eravamo arrivati l'ultima volta, come sempre vi ricordo di lasciare un like se vi piace questa serie, se vi piace il canale in generale oppure no, fate come volete, libero arbitrio, ci mancherebbe altro, quindi andiamo a vedere le partite salvate, siamo al giorno 11, sì vabbè l'orario è alquanto discutibile però ragazzi purtroppo anche di lavoro faccio questi orari quindi per me è normale per ora, poi magari in futuro cambierà, ok andiamo avanti quindi prendiamo la partita del profilo 1, eccola qua recupera l'ultimo salvataggio, l'ultimo salvataggio io recupererei, wow li ha salvati tutti per, qui passano macchine sempre di continuo, rompe il cazzo, quindi prendiamo l'ultimo salvataggio, ok, del giorno 11, ebbene rieccoci qua, eravamo accampati qui, intanto bellissima qui l'immagine ombrata con il corno, il corno di battaglia, quello che di solito usiamo in battaglia per aumentare i punti volontà e lui, questo varl, perché ormai abbiamo capito che ci sono tre specie principali su questo mondo fantasy nordico, ovvero gli umani, di cui c'è poco da dire, sono umani, i varl che sono questi e sembrano mischiati diciamo un mix tra umani e animali, anzi direi che è proprio così a quanto abbiamo capito anche dai dialoghi, cioè una divinità ha mescolato, ha unito gli umani e gli animali con fattezze da giganti ovviamente, e i dregge ovvero i distruttori che sono quelli che stanno invadendo, un po' mi viene da dire a mo' di Oblivion, di Elder Scrolls Oblivion dove c'erano le invasioni, avvenivano tramite portale, diciamo che qui invece i dregge erano stati confinati nell'antica guerra che se non sbaglio ci raccontò Ivar, prima ce la raccontò Ivar, in un dialogo, erano stati confinati all'estremo nord, però adesso stanno invadendo nuovamente, si sono liberati, sono riusciti a sfondare la barriera del nord, citazione troniana, games of troniana, e stanno invadendo le terre del sud, creando scompiglio in tutti i villaggi di questo scenario nordico. Quindi proviamo a parlare con Odelef, spero di essermi ricordato bene il nome, perché ce ne sono veramente tanti di nomi, sono tutti nomi nordici Ok, Rook, andiamo con Rook, che ormai sembra essere il nostro protagonista principale della saga, quindi già, tra l'altro riflettiamo un attimo sul termine saga, Banner Saga, quindi già è uscito un secondo capitolo, fa capire che sarà una saga ben lunga, ben articolata e lo spero tra l'altro, perché il gioco finora, finora merita, se non altro per il fatto che i personaggi sono disegnati a mano, è veramente bellissimo, e se non altro per il fatto che questo gioco nasce da una campagna Kickstarter, quindi io queste piccole produzioni che nascono dal basso, nonostante quelli che lo hanno prodotto, che lo hanno programmato, eccetera eccetera, vengono dalla Bioware, hanno deciso di mettersi fuori, da uscire un attimo dal grande mercato e partire con un progetto proprio, secondo me vanno sempre lodati e aiutati in qualsiasi modo, ognuno con le proprie possibilità, ci mancherebbe Ok, vediamo questo, ributtiamoci nel gioco e lasciamo perdere queste piccole info che ho messo in più io, e vediamo che cosa ha da dire Rook a Odelef, Odelef che vi ricordo era la moglie del capogruppo, chiamiamolo, non capogruppo, adesso non viene il termine preciso, del villaggio che è stato, tra l'altro è caduto, è caduto sotto quell'attacco che abbiamo rinviato, perlomeno trattenuto, dei dredge, però lui non ce l'ha fatta, quindi come stai Odelef, gli chiediamo? Sto bene, ci risponde la bellissima e raggiante celestiale, o se ritire Odelef, non al primo momento, la gente dice che a volte quando muore una persona cara, ovviamente si riferisce a suo marito, per un po' il dolore non si sente, io l'ho sentito subito, la gente mi dice che sono una donna forte, beh sicuramente in battaglia lo sei Odelef, è divertente, mio padre mi chiama Odelef prima che io nascessi, voleva così tanto un maschietto, ok quindi impariamo anche che Odelef è un nome maschile, donna forte, cosa vorrà mai dire? Ma magari Odelef significa proprio donna forte? Non so eh, allora, non mi sono mai curato di quell'espressione, significa che andrà tutto bene, la gente ti prende come esempio, la gente ti prende come esempio, non prenderla nel modo sbagliato, ma io non voglio essere conosciuta per essere una persona manovrata dai sentimenti, se non provo nulla per mio marito morente, le persone pensano che io sia forte, se piango perché le mie viscere si sentono in fiamme, allora sono debole, perché mi sembra che sia tutto all'incontrario? In effetti, mi spiace Rock, è stato difficile, non sono sicuro di cosa dire, è in tanti anni che conosco la moglie del capo tribù, ecco capo tribù era, questo è probabilmente il massimo che ti abbia mai detto, ok, mi ha chiesto di venire a trovarti? Sì, si tratta dello standardo, ci ho pensato a lungo, mi aveva chiesto di darlo a te sai, se gli fosse successo qualcosa, ok, probabilmente il capo tribù ha chiesto di darci lo standardo, diciamogli, scegliamo se hai la sua famiglia e dovresti portarlo tu effettivamente. Hai ragione, dovrei, dovrebbe essere mio, potrei portarlo, ma ho pensato al perché ti ha nominato, ho capito, non seguirebbero una donna, le famiglie se ne andrebbero, la nostra bandiera si dividerebbe, io la spalleggerei, per cui io garantirei per te. Andiamo Rook, questo non è il momento di fingere, non si tratta solo della nostra piccola città, cosa succederà la prima volta che avremo bisogno di qualcosa da un altro clan? Cosa potrebbe accadere? E la prima volta che qualcuno penserà di potersi approfittare di noi? Penso che questo è ciò che succederà, una donna saggia, forte e saggia. Forse è questo ciò che significa essere una donna forte. Volta lo sguardo tirando fuori finalmente un timido sorriso, ok, l'abbiamo fatto centro. Non so se questa è la cosa più stupida che abbia mai sentito o la più dolce. Era chiaro anche dal primo dialogo che c'era, c'è grande rispetto, però a tratti i dialoghi sembra che ci sia anche qualcosa di più da parte sua, cioè di Odd Life verso Rook. Ascolta, so di cosa sto parlando, la verità è che io e mio marito non abbiamo mai potuto avere un figlio, oh? Non voglio che il nostro standardo finisca qui, sarà il sicuro con te e Aleth. So che ti prenderai cura di lei, ok, per un attimo ho pensato, ti mette la mano sulla spalla mentre si dirige verso il campo. Più 5 di fama, ok, quindi abbiamo condotto bene questo dialogo perché ricordo che i dialoghi hanno diciamo, cambiano il corso della storia, cioè si potrebbe rigiocare ancora, ancora e ancora questo titolo e prendere decisioni sempre diverse. Allora il training non lo uso anche perché ci guardo giusto per curiosità perché non ci siamo mai entrati, ci siamo mai entrati prima d'ora, quindi per completezza diamoci uno sguardo. Però vedo che abbiamo sempre i soliti, quindi non c'è neanche bisogno, ormai conosciamo gli attacchi speciali, gli attacchi di base di tutti quanti. Ok, leggiamolo giusto per curiosità, tenda di addestramento, la tenda di addestramento permette di testare il tuo gruppo contro una squadra di ugual potenza. L'addestratore ci darà dei punti, premi fine allenamento, ok, io non lo farei, dai. Premiamo fine allenamento e rieccoci qua. Quindi questo indica il giorno, il morale è normale. Facciamo un altro giorno di riposo, poi magari se c'è il market ci compriamo qualcosa, anche se non vedo il market qui, quindi non sono proprio sicurissimo che possiamo prendere provviste. Abbiamo provviste per nove giorni, quindi non so. Andiamo un altro sguardo alla mappa, visto che siamo rientrati in gioco adesso, per renderci conto di dove siamo effettivamente. Ok, eravamo diretti a Frostweller, benissimo, nel Satterlund. Quindi già che ci siamo leggiamo di più su Frostweller. Una volta situata sulla riva di un vasto lago, quando il North Felling si trasformò in un deserto, la città di Frostweller divenne un bastione spazzato dai geli di venti che attraversano la valle. Coloro che vivono qui non sono noti per la loro ospitalità. Ok, siamo in una terra fredda come è fredda la popolazione. Benissimo, quindi usciamocene. facciamo un giorno di riposo, sperando che il morale ne si rialzi un pelino, poco poco, appena appena. Ok, giorno 12. È scalato un giorno, perfetto. Rimettiamoci in marcia. Ok, succede qualcosa. Ad un piccolo incrocio alcuni combattenti si fermano a parlare con te. Ciascuno porta un piccolo zaino. Riconosciamo questo posto, dice uno di loro. Abbiamo trascorso molti anni qui con alcuni parenti. Se sono ancora qui, dobbiamo avvertirli di quello che sta arrivando, ovvero dell'arrivo dei distruttori, dei dredge. Con un po' di fortuna ci ritroveremo in meno di una settimana. Che facciamo? Ce li mandiamo? Chiediamogli se pensano di sopravvivere là fuori da soli. Gli uomini si guardano tristemente l'un l'altro prima che uno dica ecco perché dobbiamo andare. Qui fuori da soli i nostri parenti sono come morti. Ok, abbiamo scelto una brutta risposta. Dovevamo dargli delle provviste, cioè sostenerli. Ok, meno 8 combattenti. Eravamo a 79, infatti adesso sono 71. Ma guardate che incanto che è il paesaggio disegnato a mano, ho treduto. Sono ricominciate le denunce all'eccessiva ubriachezza di Ransfart. Un'altra volta. Questa volta l'uomo ha inciampato su alcune corde di tenda e tirato i teli sopra un falò, dando fuoco ad un vicino carro di provviste. Gli uomini del clan hanno spento il fuoco sia dal carro che dalla gamba di Ransfart, prima di condurlo da te. Quest'uomo da ora in poi berrà solo acqua, cioè è già la seconda volta. Basta. Ransfart annoisce intontito, farfugliando la promessa di smettere di essere un fastidio. Molti degli astanti grugniscono e rotelano gli occhi, ma tornano alla loro attività. In ogni caso, dubiti che Ransfart ci metterà molto tempo a trovare il modo di tornare a bere, che tu glielo permetta o no. Ok, siamo stati fin troppo clementi finora con Ransfart. Ok, siamo arrivati a Frostveller. Gli istruttori, grida un uomo dal fondo della carovana. Ok, forse abbiamo incontrato la prima imboscata. È Ransfart, ancora lui, l'ubriaco sfacciato che barcolla verso di te non del tutto sobrio. Lui urla di nuovo, indicando gli alberi in lontananza. La paura corre per tutta la carovana, mentre i combattenti sfoderano le armi. Gli esploratori tornano senza aver avvistato nulla. Ecco, ok, si è preso gioco di tutta la carovana. Potremmo o dargli fiducia, cioè preparandoci ad affrontare i distruttori che non si sa mai, lasciare che gli uomini si facciano giustizia per lo scherzo di Ransfart o bandire l'ubriacone. Potrebbe anche essere che... C'è da dire che i miei esploratori sono andati a controllare senza aver avvistato nulla. Io mi preparo ad affrontare i distruttori che non si sa mai. Ci sarà tempo per questo più tardi, dico agli uomini. Per ora non corriamo rischi. Un intero giorno di riposo inquieto passa senza segno di distruttori. Ok, non c'erano. La carovana è infastidita dalla paura e dal ritardo. Alla fine Ransfart scoppia a ridere e sei sicuro che non ci fossero i distruttori. Non molto tempo dopo Ransfart scompare. Nessuno lo cerca o sembra preoccuparsi. Ok, ha pure abbandonato, cioè ci ha preso per il culo alla grande. Siamo stati clementi. Meno un membro. Bene. Del clan. Benissimo. Una bocca in meno e soprattutto un bicchiere in meno. Leggiamo. Ok, siamo arrivati a Frostveldar. Situata in una posizione sopraelevata. Guardate che bella. Sembra quasi che ci accolgano, ci stiano attendendo. Ti fai largo tra una folla di volti incavati che sembrano essere congelati per giorni di fronte a Frostveldar. Le porte sono chiuse. Ti fermi in fondo alla collina. Ok, la città quindi è chiusa. Cioè non c'è l'accesso alla città. Queste persone stanno fuori, congelate e volti incavati dalla fame, credo. Non la vedo bene. Alet, perché ci sono così tante persone nei campi? Possiamo stare qui fuori all'aperto con questa gente. Oddlife ti trova fra i molti rifugianti. Rook, ho appena parlato con alcune delle donne qui. In città non lasciano entrare nessuno. Occidenti. Perché? Chiediamo noi. È invasa da Varl che provengono da Blotsbark e Greyhorn. Dalla gente di Bitra e da tutti i villaggi vicini. I distruttori sono ovunque. Wow. Il capo tribù di Frostweller si è rinchiuso nel salone quando hanno chiuso le porte. Ok. La città è sotto assedio e il capo tribù o Jarl strezzando l'occhio a Skyrim è rinchiuso dentro il salone. Dentro la cittadella della città. Quando arriveranno i distruttori? Queste colline si tingeranno di rosso. Dobbiamo entrare. Assolutamente. Tra l'altro Iver è un Varl. In qualche modo oltrepasseremo le mura. Voglio sapere di più su quello che sta succedendo là. Per ora non facciamoci notare e vediamo che succede. Voglio sapere di più su quello che sta succedendo là. Vedo un sacco di persone radunate intorno ai dormitori alle porte. Potremmo scoprire che cosa sanno. Come possiamo entrare comunque? Hanno chiuso le porte. Posso far aprire le porte? Dice Iver. Esatto. È un Varl. Sarebbe accettato. Vediamo se c'è un altro modo prima di iniziare a rompere le porte. Ah ok. Lui le avrebbe cavate. No. Ok. Le avrebbe scardinate. No. Non ho intenzione di romperle. Basta spingere le monteforte. Sì. Le avrebbe scardinate. Le scardinerà quindi. Andiamo. Allora qua abbiamo il market importante. Abbiamo 27 punti fama. Quindi. Eroi. Ci siamo accampati fuori. È fuori da Frostweller. Riposo. Eroi. E cancello. Andiamo. Andiamo al cancello. Ti avvicini alle porte dove si sono riunite centinaia di persone. Nello spazio di fronte alle porte, insanguinati e calpestati, giacciono diversi corpi trafitti come punta spilli, ignorati come se fossero stati sempre lì. Gli arcieri sulle mura rendono evidente che nessuno entrerà. Ok. Il cancello è sorvegliato da arcieri. Uomini e donne al di sotto chiedono alternativamente pietà e buonsenso quando non lanciano pietre e maledizioni. Iver, ti aspetti davvero di aprire queste porte a spallate? Gridi alle guardie sulle mura. Tieni vai delle porte e provi qualcos'altro. Chiediamo ad Iver. Sono disposto a provare, grugnisce Iver. Nonostante la dimensione delle porte sembra poter fermare un intero esercito. E quando gli uomini cominceranno a tirarti frecci e usciranno a fermarti, allora li ucciderai, dice. Sei sicuro che questo sia il miglior piano? Che facciamo? Non possiamo farlo. È una pessima idea. Non sappiamo nemmeno quanti ce ne siano. Iver rincrocia le braccia. Sembra quasi sollevato per non aver dovuto mettere in atto la sua precedente idea. Ok, allora perché l'ha proposta? Quindi, gli arcieri sulle mura rendono evidente che nessuno entrerà. Ok. Scegliamo un'altra opzione. Gridiamo alle guardie sulle mura. Siamo di Skogger. Aprite le porte. Grido agli arcieri. Senza aspettarmi molto. Ricevo più risposte di quelle che aspettavo. Ovvero? Gli arcieri sulle mura? Ok, sempre lo stesso. Niente. Ho capito forse che tipo di risposte ho ricevuto. Cerco di saperne di più dalla folla a questo punto. Trascorro un'ora parlando con diverse persone. Tutte raccontano la medesima storia. Un paio di giorni fa il capo tribù si è chiuso dentro. Ok. Ha sbarrato le porte e ha rifiutato ulteriori profughi. Hanno anche enormi depositi di provviste là dentro, aggiunge un uomo. Li stanno solo accumulando. Stanno affamando la popolazione praticamente. Egil ti tira da parte e dice Stavo seguendo queste mura dall'esterno e c'è un canale attraverso in cui potremmo infilarci. Grandissimo Egil. Egil abbreviato Gil, che è un'abbreviazione, l'abbiamo già detto, abbastanza ridicola. Non tutta la carovana, ma se una manciata di noi entrasse potrebbe aprire le porte dall'interno. Controlliamo il canale. Non ci passo di lui, dice Iver, quando arrivate agli stretti condotti. Andate senza di me, dovrebbe portarvi in cima alle mura, poi potrete scendere dalla porta e aprirla. Spettaci alla porta, Iver, saremo veloci. Quando Egil aveva parlato di canale, ti aspettavi qualcosa di più ampio. In ogni caso riesci a stringerti per passare tra strette pietre e attraverso una grata di ferro. Prendi le scale fino in cima alle mura. Quando ti avvicini alle porte, viene notato da uomini armati. Questi non fanno domande, attaccano e basta? Ok, è andato in malora il nostro tentativo. Ok, lui è tankoso. Vi direi che questa è la formazione ideale per il momento. Ovvero un maestro di scudi che attacca anche. Loro due, bravi con l'ascia. Che hanno anche la combo come attacco. E due arcieri alla fine. Benissimo, iniziamo la battaglia. Purtroppo siamo stati presi con le mani nel sacco. Uh, eccoci. Sono tantissimi. Uno, due, tre, quattro. Cinque, sei, sette, otto. No, otto. Otto contro cinque. Siamo pronti. Alla morte. Frostbler chiamò. Allora, avviciniamoci. Avviciniamoci. E muro di pietra. Ok. Vediamo la contromossa. Vanno diretti? No. Ha cambiato direzione. Ok. Secondo me dobbiamo stare uniti a questo punto. Dobbiamo stare più compatti possibili. Quindi ci muoviamo. Ci muoviamo per stringerci. Potrebbe esserci anche il rovescio della medaglia. Ovvero che ci potrebbero accerchiare. Questo è chiaro. Però. Però. Ok. Muovi. Qui rischiamo di prendere il colpo. È dal nostro dirimpettaio. Ma... Ok. Non colpire. Ok. Arciere. 80% di probabilità. Va bene. Bravissima Odd Life. Ok. Non subiamo il colpo. Ancora. Ancora. Non subiamo il colpo. Quindi. Se io mi muovessi. Mi muovessi. Qui. Potrei. Cecchinare. A parte sì. L'idea iniziale di raggrupparci. Potrebbe anche andare bene. Se poi avessimo usato il marchio della pietra. Per colpire tutti insieme. Non sarebbe stato male. Questo ha 10 di armatura. Usiamo un punto volontà. Vediamo che cosa succede. Fighissima la cosa che pianta l'accetta al terreno. E poi usa l'arco. Veramente molto figa la cosa. Ok. Qui entrare in questo poker di guardie non mi stuzzica tanto. Quindi mi sposto da quest'altra parte. E mi buffo ancora di muro di pietra. Buffo è eccessivo dire buffarsi in questo gioco. Ok. Ci muoviamo. Ci muoviamo. Come su Stronghold. Ci muoviamo. Flagello sanguinoso. Avanti. Ottimo. 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 Ok. Ha colpito. Ha colpito. La prima. Il primo. Il primo. Il primo contrattacco di queste guardie. Ancora Flagello. I gemelli probabilmente sono identici. Abbiamo già apprezzato le loro abilità in combattimento. Quindi sfondiamogli l'armatura. Punto volontà. Pam. Ok. Benissimo. Importante sarebbe indebolire quello da 10. Quello da 10. Ok. Marchio della pietra. Se marchiassi questo. Probabilmente. Colpirebbe anche Mogun. Vediamo. Sì. Esatto. E anche. No. Lei no. Lei no. Wow. Ok. Vieni anche tu per carità. Vieni anche tu. Io credo che riusciremo a entrare. Riusciremo a entrare. Ancora muro di pietra. Vediamo il contrattacco. Schivata. Grandissimo. Questo è l'anello che gli ho messo. L'anello o il bracciale. Quello che è. Flagello sanguinoso. 5-3. Cominciamo a indebolire lui. Va. Sono tante. Sono tante le guardie. Sono veramente tante. L'hanno preso proprio di mira. Altro flaggello. Benissimo. Stiamo riuscendo. Con un po' di fatica ma stiamo riuscendo. Ok. Un danno sopportabilissimo. L'anello di frecce mi piace. Una trappola. Una trappola. Una trappola. Quindi la piazzo qui. Ok. Semmai ci passassero. Piano sulla signora. Ok. Lui. Lo facciamo un attimo. Allontanare. Perché è stato un po' preso di mira. Anche se è una cazzata. Perché adesso col marchio. Avremmo potuto fare grandi cose. Credo. No. Attacco. E lui è andato. Dai. Troppo figa. La scetta piantata. Troppo figa. Ha tenuto anche una possibile promozione. Tra l'altro. Lui sta messo molto male. È mogul. O ogul. Non ricordo in questo momento. Quindi. Muro di pietra. Basta. Muoviti. Vieni. Qua. E attacca. Lui. Che è bello. In forma. Punto. Volontà. Ok. Sembra che. La battaglia stia volgendo. A nostro favore. E finirebbe anche allontanarlo. È mogul. Ogul. Scusate. Non mogun. Mogun è l'altro. Wow. Che botta. Attacco normale. Su di lui. Visto che ormai è alla frutta. Ok. Benissimo. Wow. Ok. È caduto nella trappola di Odlife. Benissimo. Benissimo. Allora Odlife. Allontanati un attimo. Bellissima principesta. Principesta insomma. Piazziamo una trappola. Pioggia di frecce. Benissimo. Wow. Tiro dietro la schiena dalla inginocchiata. Fatemi levare Ogun per favore. No. 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 Muovi. Muovi. Ritorna qua in mischia. Attacca. Cerca di mandarlo all'altro mondo. Eh. Bam. Ok. Ok. È caduto un'altra volta nella trappola. Non male. Non male la trappola. Veramente. Ok. Tocca a te. Muovi. Qui. Dacci un bel attacco a lui. Sperando anche di finirlo. Anche se lui ha molta armatura. Facciamogli due di danno all'armatura. Ok. Aia. Wow. Sei. Eh. Sì. Perché l'armatura probabilmente è arrivata a tre. Lui. Lui deve andare via. Subito. Vieni qua. Ok. E passa. Eh. No. Manseguito. No. Non manseguito. Oddio. È morto. Cioè. È ferito. È fuori battaglio. Mi viene da dire sempre morto. Ma sbaglio. Perché non è che muoiono. Sono feriti. E poi hanno dei malus. Sulle battaglie successive. Mentre passano motorini ovunque. Falle. Esplode. Attacco. Lui ha 8 e 8. 80% di andare a segno. Quindi. La rischiamo. Benissimo. Ok. Noi avevamo. Eh. No. Era finito credo il buff. Ok. Ancora con Agil. Facciamo un attacco. Ah. Lui è ancora intatto praticamente. Ok. Cerchiamo di togliere di mezzo lui. Eh. Ok. Gli è rimasto un punto. Poco poco. Per favore. Ok. Due di armatura. Accidenti. 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 Ok. Attacco. No. Vabbè. No. Non lo devo far allontanare. Assolutamente. Ok. Fine del turno. Stanno puntando tantissimo alle armature. Cioè. Il prossimo colpo sarà un disastro. Facciamogli un po' di danno. Quanto un gemello mi cade sempre. Io non so com'è. No. Wow. Per fortuna. Per fortuna è andato sulla forza. Vabbè. Cioè per fortuna è un cacchio. Proviamo un po'. A venire qua. E a fare un bell'attacco. Su di lui. Da due punti. Sull'armatura. In modo da indebolirlo. No. Wow. Eh. Non si sta mettendo bene. Lui lo mandiamo all'altro mondo. Ok. Io nemmeno sono rimasto. Uno. Due. Tre. Quattro guardie. Ok. Questo ci ha fatto male. Questo ci ha fatto male. Bisognerà sacrificarlo. Attacco. 50%. Ok. Purtroppo ci lascerà le penne. Entrambi no però. Bene. Allora facciamo un attacco a... Non a lui. A lui. No vabbè. Non lo uccidi così. Che cacchio. Eh ok. Morto. Cioè ferito. Fuori gioco. Vediamo un po' l'attacco. 6 e 6. Ok. Io mi sposto allora. Perché lo voglio far fuori un altro. Ok. Attacco. Su di lui. Non ho la stella. Ah. Potevo usare il corno. Capoccione. Non so altro. No. Pure lui. Abbiamo perso. Siamo fuori dai giochi. Siamo fuori dai giochi. Siamo fuori dai giochi. Non ce la facciamo? No vabbè. Mi ha deviato il colpo decisivo. No. Oddio. Oddio. Ci hanno massacrato. Ci è rimasto solo Adleif. Che è la migliore poi. Attacco. Ok. No. Non ce la potremmo fare mai. Sono 3 contro 1. Para. Para. Uh. Ok. Adesso loro muovono. In 3. Ok. Attacco. Forse le trappole potrebbero tornare anche utili. Uh. 80%. Però. Ha veramente un tasso di armatura molto alto. E tra l'altro non riusciamo a scappare dal suo range. Quindi siamo sempre sotto tiro quasi. Muovi. 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 E così mi chiuderei nell'angolo. Vediamo un po'. Attacco. Attacco. 60%. No. Andiamo sull'armatura. No. Non conviene. Tanto. È andata. Quindi. No. Lui non poteva raggiungerci. Dai. È finita. Così. Così è finita. Ok. L'assalto alla porta è andato veramente una schifezza. Forse è il caso di mettere Mogun e Ogun davanti la prossima volta. Tanto sono i primi due sempre a cadere.